Buongiorno, oggi parliamo di Edward Snowden che è accusato di alto tradimento da parte del governo degli Stati Uniti per avere diffuso la notizia che milioni e milioni di persone nel mondo occidentale almeno vengono quotidianamente controllate da sistemi di sorveglianza. Questi tre sistemi di cui ha parlato Snowden si chiamano PRISM, X-Keys Core e Tempora. Attualmente Snowden vive a Mosca sotto asilo politico perché se dovesse mai rientrare negli Stati Uniti verrebbe condannato pesantemente ad almeno 30 anni. Noi chiediamo che la sua libertà e la sua grazia vengano accolte dal governo degli Stati Uniti e chiediamo anche che questo controllo sulle persone, sulle vite private, sulle conversazioni private, cose che riguardano ognuno di noi, vengano interrotte immediatamente da parte dei governi. Del resto, come evidenzia lo stesso Snowden, l'alibi del terrorismo è probabilmente una grande scusa per poterci controllare di più. Chiediamo quindi più libertà personale nelle comunicazioni private e ci auguriamo che Edward Snowden possa al più presto essere graziato dal governo degli Stati Uniti. Grazie.